Professore, lei che ha bene il polso della situazione negli ospedali, le chiedo subito, le regioni sono pronte, hanno il personale ma anche le apparecchiature per affrontare nell'immediato questa situazione legata al coronavirus? Le regioni stanno facendo tutte un grande lavoro, è stato appena detto, il problema è che i medici cominciano a mancare, sia perché quasi tutti gli ospedali sono un po' sottorganico, ma anche perché adesso ci sono le quarantene dei medici e del personale infermierizio che hanno incontrato dei pazienti positivi e quindi sono stati mandati a casa in quarantena, quindi c'è anche questa assenza dal lavoro obbligata che sta creando delle grosse criticità. Mi sembra che l'Ordine dei Medici abbia inviato delle mail, delle informazioni al personale medico italiano per vedere se ci sono delle persone che volontariamente vanno per esempio negli aeroporti a dare una mano, ma voi siete comunque pronti a gestire un flusso ancora più importante di persone negli ospedali? Ma guardi, io rappresento i medici internisti ospedalieri, nei mille circa ospedali italiani c'è sempre una divisione di medicina interna, un po' come i carabinieri, in ogni ospedale c'è un internista, un gruppo di internisti che stanno adesso fronteggiando in prima linea questa emergenza. Noi siamo pronti, noi stiamo lavorando, il problema è che di fronte alla carenza di personale, in certi casi alla carenza di strutture, di macchine per la ventilazione non invasiva, di dispositivi di protezione, bisogna fare un grande lavoro organizzativo che compete a noi relativamente, cioè lo sforzo come si sta facendo delle regioni e di tutto il Paese. La maggior parte dei malati di Covid-19 non ha bisogno dell'area critica. Quali sono le vostre proposte per quelli che non trovano posto nei reparti di malattie infettive e devono essere gestiti per altre patologie? Questo è molto importante perché circa il 10% dei pazienti che hanno contratto l'infezione sanno in rianimazione perché devono essere intubati e ventilati con la ventilazione assistita, attaccati al respiratore, per essere molto chiaro. Gli altri pazienti o possono andare a casa se hanno sintomi modesti o altrimenti vengono ricoverati in medicina interna prevalentemente nelle malattie infettive e in altre divisioni. Recentemente il Ministero ha detto aumentiamo le pneumologie e le malattie infettive. Io mi sono permesso di dire che il problema forse non è quello di fare spaccati e di dire aumentiamo questa o quella specialità. Serve l'area medica che globalmente si faccia carico di questi pazienti che magari sono anziani e hanno anche altre criticità e devono essere valutati in modo globale. Il problema dell'isolamento anche di questi pazienti è nuovo perché fino adesso sono stati isolati nelle camere per isolati nelle malattie infettive a pressione negativa con il massimo dell'isolamento. Trattandosi adesso di tantissimi pazienti stiamo andando a isolamenti di coorte, è un po' la logica del sanatorio. Tutti i pazienti con la stessa infezione condividono la stessa corsia. Questo permette anche di avere un rapporto medico-paziente, infermiere-paziente migliore perché se ogni volta mi devo cambiare, vestire e svestire per entrare in una stanza si occupa molto tempo e anche molti soldi di organizzazione. Se invece io medico e il mio infermiere possiamo assistere 10-20 pazienti vi rendete conto che la macchina funziona molto meglio. Nella circolare ministeriale c'è la possibilità di spostare equip mediche e infermieristiche da altre zone d'Italia per supportare quelle in prima linea. La formazione a distanza di medici e infermieri, equip di medici interregionali. Questa è solo la predisposizione di un piano o si sta già facendo? Questa è la predisposizione di un piano, qualche cosa si sta facendo a livello regionale, cioè delle singole regioni, spostando alcune equip di infermieri, per esempio chiudendo alcuni reparti di chirurgia come è successo in alcuni ospedali del nord, Boghera, Cremona, Pavia e si stanno spostando gli infermieri e gli anestesisti delle sale operatorie nelle medicine e nelle aree mediche per assistere i pazienti. Non è una cosa immediata, ci rendiamo conto che ci vuole del tempo per affrontare questa emergenza ma intanto dobbiamo pensare all'oggi e al domani e affrontarla nel modo migliore. Senta, chiudiamo con l'appello del Presidente della Repubblica, Mattarella. Ognuno deve fare la propria parte per uscire da questa situazione, attenersi a quelle che sono le indicazioni ufficiali. Allora, vogliamo ricordare queste indicazioni, le più importanti che dobbiamo rispettare? Beh, condivisione, adesione alle raccomandazioni del Ministero e degli esperti, un richiamo alla responsabilità individuale. Come al solito parole molto forti e molto importanti del Presidente Mattarella. Noi internisti, nuovi medici, i medici e il personale infermieristico italiano lo stanno facendo e credo che tutti quanti sono motivati al massimo, anche grazie a questo stimolo del Presidente.